Saluti amici, buona serata a tutti e bene, nonostante un leggero ritardo sulla mia tabella di marcia andiamo a fare un riassunto dei risultati delle prime qualifiche del debutto stagionale 2021 della Formula 1 e della MotoGP. Partiamo dalla Formula 1 dove Max Verstappen parte davanti a Hamilton, Ferrari, Leclerc, quarto e Sainz, ottavo. Allora, battaglia, mozzafiato appunto nel Q3, poi Bottas, Leclerc, Gasly, ottavo la Ferrari di Sainz, Fettel eliminato nel Q1, Reckonen eliminato nel Q2 come Perez. Ma andiamo a dare la top 10 di domani in griglia, appunto primo Verstappen 1-28, 1-28 pieno, secondo Hamilton, Terzo Bottas, quarto Leclerc, quinto Gasly, sesto Ricciardo, settimo Lando Norris, ottavo Carlo Sainz, nono Alonso, decimo Stroll. Ragazzi, lasciatemi dire che comunque Sonuda è un ingresso in Formula 1 che è al primo anno, siccome lo è stato per Sonuda l'anno scorso in Formula 2, però il ragazzo ci sa fare. Certo, Mick Schumacher ha bisogno sicuramente di tempo per carburare, glielo daremo. Modo GP, Qatar, Polo, primo posto di Pecco Bagnaia in griglia, quarto Valentino Rossi, settimo Morbidelli, ma andiamo a dare anche qui la top 10. Primo Bagnaia, secondo Quartararo, terzo Maverick Vignales, quarto Valentino Rossi, quinto Jack Miller, sesto Joan Zarco, settimo Franco Morbidelli, ottavo Espargaro, nono Alex Rins, decimo Ivan Mer. Quindi a questo punto appuntamento a domani con le gare, questa volta non c'è la concomitanza a stesso orario, domani avremo come oggi prima la Formula 1, poi la Modo GP. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, intanto penso di mettere l'immagine di videocopertina domani mattina. Grazie a voi tutte, alla prossima Forza Ferrari MotoGP, ciao!